cantiano paese in ginocchio si spala fango per ripartire nell'anconetano 11 morti e si cercano ancora due dispersi elezioni le proposte di conf commercio ai candidati gad presentati i finalisti del 75esimo festival il premio a poxio meno saluta international police award festival buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovate ad una nuova settimana in compagnia dell'informazione di rossini news settimana che comincia purtroppo come l'abbiamo conclusa con la stessa notizia quella della catastrofe atmosferica che si è abbattuta nei giorni scorsi nel senigallese nell'entroterranconetano e nella nostra provincia di pesaro urbino che gravita attorno al catria apriamo questo telegiornale di lunedì 19 settembre proprio andandovi a mostrare le immagini di oggi a cantiano per vedere come si presenta il centro storico del paese a quattro giorni dall'alluvione che l'ha inondato di fango lunedì 19 settembre quattro giorni dopo la bomba d'acqua che ha devastato cantiano il borgo alle pendici del catria si presenta così ancora sommerso di fango con un fermento lavorativo di tantissime persone dai vigili del fuoco alla protezione civile agli operatori di marche multiservizi agli operatori della provincia tutti intenti al lavoro a supporto della cittadinanza a supporto dei residenti armati di vanga di pale di scopettoni di tutto quello che serve per liberare ancora le case dall'acqua e dal fango case che sono state preventivamente anche liberati di tutti gli oggetti che si è riusciti a salvare dalla furia dell'intemperia idrica il lavoro è tanto da fare però purtroppo le mani non bastano perché servirebbero mezzi che portano via il fango perché se no non riusciamo a levarci il fango dalle case dalle strade da tutto non sai quello che devi fare se solo che scappi alla mattina di casa con i festivali e dove trovi da fare incominci a levare quello i mobili purtroppo è così qui è un bel macello un bel disastro poi soprattutto da noi ha sfondato due solai buttando su le cisterne del gasolio quindi con le esalazioni c'erano detti vicini che bisogna evacuare andare da qualche altra parte per fortuna abbiamo una cara amica di mia mamma che ci può ospitare perché abbiamo anche un bambino piccolo e quindi è bella bella tragica sì ci sono due rumori che dominano l'effetto sonoro delle borgo di cantiano in queste ore uno è quello del fermento lavorativo di operatori vigili del fuoco ruspe e scavatori l'altro rumore dell'acqua rumore dell'acqua persistente anche dove non dovrebbe esserci come qui dove ci troviamo dove si è aperta una voragine in pieno centro storico e di fatto scorre un fiume sotterraneo in pieno centro io sono di un paese vicino sono di pianello e chiaramente visto quello che è successo qui siamo venuti tutti ad aiutarli via speriamo di risolverla vedo che la gente si sta dando molto da fare ieri c'erano oltre alle protezioni civile i vigili del fuoco c'erano anche molti volontari rispetto a due giorni fa quando è successo tutto questo casino già la situazione è un po migliore comunque ancora c'è molto da fare questa è piazza luceoli la piazza centrale di cantiano uno dei primi luoghi in cui si ricominciano a vedere le piastrelle oltre la coltre di fango uno dei primi ad essere ripuliti ma proprio questo luogo è il famoso luogo del video diventato virale della piazza sommersa dall'acqua e dal fango con le macchine che galleggiavano piazza che si sta ripulendo tutto intorno invece è un la fermento lavorativo continuo con attività veramente in ginocchio off limit per quello che è l'attività lavorativa ma anche il patrimonio artistico culturale delle chiese è stato gravemente danneggiato questa è la chiesa e parrocchia di san nicolò che si è un po un po diciamo salvata ma la chiesa collegiata è stata praticamente rovinata in maniera in maniera grave l'acqua ha sfondato tutti i portoni ed è entrato dentro tutto il fango tutti i detriti rovinando anche delle delle opere insomma delle che erano lì fino a un metro e mezzo di altezza ovunque danni incalcolabili che siano abitazioni che sia patrimonio storico culturale delle borgo ma soprattutto attività lavorative vi mostriamo ad esempio come ridotto il ristorante la cantina sociale la pizzeria della rocca il caffè centrale la banca tutto davvero devastato completamente sgomberato il mobilio interno danni ingentissimi attività che fanno davvero molta fatica a pensare di ripartire questo sì forse il punto più colpito l'acqua è arrivata fino all'altezza del soffitto come potete vedere fortunatamente noi eravamo appena usciti perché già stava diventando la pioggia insistente quindi eravamo usciti fuori per decidere sul da farsi se andare via e a quel punto abbiamo visto l'acqua sporca di fango che iniziava ad arrivare e da lì in pochi minuti è salita a livello di un metro sopra il metro siamo al quarto giorno e c'è ancora tantissimo da fare sì perché all'inizio hanno pulito dal fango che c'era per strada e quando si è riusciti ad accedere all'interno e abbiamo tirato fuori il fango dall'interno che anche lì era tanto ancora ce n'è tanto e quindi continuano a buttarlo fuori però in questo modo è un cane che si morde la coda più puliscono fuori più noi ne ributtiamo questa è l'entrata del palazzo comunale di cantiano nel cuore della piazza del borgo vedete all'interno dove il livello dell'acqua dopo l'alluvione di giovedì sera si è fermato oltre due metri di zone sommerse tanto per capire la portata dell'evento atmosferico in sé siamo stati di fronte purtroppo un evento catastrofico imprevedibile in poco più di due ore è cascato a terra l'equivalente di sei mesi di precipitazioni normali e ordinarie quindi come vedete ecco non c'è più il paese abbiamo un centro storico completamente distrutto non c'è più un'attività commerciale attiva abbiamo una zona residenziale completamente distrutta oggi in questa fase siamo in una fase emergenziale stiamo pensando alla salute dei cittadini abbiamo liberato le frazioni ridato viabilità servizi pubblici da oggi c'è corrente c'è acqua entro la giornata sarà ripristinata la rete del gas metano però è chiaro che ci aspettano mesi e direi anche anni drammatici ecco io l'appello è che le istituzioni in questo momento stamattina c'è stata la visita del capo di dipartimento della protezione civile curcio è che non ci si abbandoni ci si dia una mano e chiediamo una boccata d'ossigeno immediata un ristoro immediato le nostre attività perché il fare attività il fare impresa nelle aree interne è già condizione difficile ordinaria dopo una casastrofe del genere il rischio è che non ci sia la voglia di ripartire che il paese muoia che non rimanga più niente nel paese e quindi cali anche la popolazione questo è quello che dobbiamo evitare io ringrazio comunque tutti tutta la rete del volontariato tutte le strutture di supporto le istituzioni tutti quanti in questo momento ci stanno dando una mano per cercare ecco di gestire l'emergenza e guardare con un po di fiducia al futuro e da cantiano passiamo al territorio anconetano dove l'alluvione oltre ad aver causato ingenti danni ha provocato anche vittime l'ultimo bollettino aggiornato è quello di 11 morti e si cercano ancora due dispersi si cercano ma ancora purtroppo non si trovano dopo ore e ore di ricerche con ruspe mani e qualsiasi attrezzo valido e disperato di brunella chiù e del piccolo mattia ancora non c'è traccia sono passati quattro giorni da quel maledetto pomeriggio vissuto dalla provincia di ancone di pesaro urbino in cui dal cielo sono precipitati circa 400 millimetri di acqua pari a quanto solitamente ne piove in un terzo dell'anno al numero delle vittime 10 fino a sabato quando è stato ripescato nel fiume esino il cadavere di un ottantenne di sera san quirico si è aggiunto quello di michele bonprezzi 47 nel di arcevia fratello dell'ex sindaco la cui auto è stata trovata nel fiume misa un bollettino che quotidianamente si aggiorna con il numero delle vittime arrivato a 11 con due ancora dispersi e sono proprio dispersi che in questo momento hanno la priorità con oltre 100 uomini del soccorso alpino e speleologico e 42 vigili del fuoco sopraggiunti anche da altre regioni impegnati in queste ore interminabili nella ricerca di brunella e mattia della donna 56 anni di barbara sono stati rinvenuti i resti della sua bmw travolta dal fiume ritrovata a burello di ostra a 6 chilometri da casa sua da cui fuggiva con la figlia 17enne noemi una delle 11 vittime ritrovate unico sopravvissuto per ora della famiglia è il 23enne simone fratello di noemi sommersi in questi giorni da un'ondata di solidarietà da tutta italia sono infatti circa 20 mila euro quelli raccolti finora grazie ad un'iniziativa delle molino paolo mariani sulla piattaforma gofanmi ore di speranza anche per il ritrovamento di mattia luconi bambino di 8 anni trascinato via dal fiume davanti all'impotenza della madre ritrovata ferita a un chilometro dal punto in cui l'auto nella quale erano a bordo è stata travolta dalla forza dell'acqua del piccolo solamente alcuni frammenti di felpa sono stati ritrovati e la speranza della famiglia sotto shock per la situazione surreale che sta vivendo e quella che mattia si sia arrampicato su uno degli alberi portandosi in salvo tanti gli aiuti che stanno arrivando dalle altre regioni nelle marche sono più di mille gli operatori che sono impegnati nella ricerca con interventi costanti e non stop per cercare di risollevare tante città e piccoli paesini colpiti dalla distruttività dell'alluvione il capo della protezione civile fabrizio curcio ha effettuato oggi diversi sopralluoghi nelle zone colpite partendo dalla provincia di pesaro con cantiano serra santa bondio frontone pergola per poi passare in quella di ancona nel frattempo si lavora giorno e notte per liberare i comuni dal fango e fare una stima dei danni sembra poco ma è comunque un piccolo passo per cercare di ripartire ed è un alluvione che inevitabilmente ha creato anche grossi problemi alla viabilità con mezzi e uomini della provincia al lavoro senza sosta per cercare di rendere le strade più agibili possibili è stato infatti garantito il tratto stradale cantiano chiaserna e serra santa bondio pergola mentre il tratto serra eramo di fonte avellana è agibile solo a una corsia e solamente per mezzi di pubblica sicurezza lo sforzo di chi ininterrottamente sta lavorando enorme ma come ha evidenziato la provincia l'ottanta per cento della viabilità dell'area del catria è stata totalmente compromessa tutte quelle strade che portano al monte praticamente non esistono più in questo momento nonostante le difficoltà con il dispiegamento di una ventina di mezzi sono state scongiurate le con le chiusure complete dei giorni scorsi e cambiamo argomento e ci occupiamo di politica si avvicina il 25 settembre giorno delle elezioni e oggi cofcommercio marche nord ha incontrato diversi candidati a camera e senato della provincia di pesaro urbino per presentare il piano di proposte che l'associazione di categoria fa presente ai futuri e possibili nuovi parlamentari un argomento che approfondiremo con un ricco speciale che andrà in onda mercoledì 21 settembre alle ore 21 e 40 ma intanto in questo servizio andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le proposte di confcommercio dalle infrastrutture al turismo dalla ristorazione ai contratti di lavoro è un impegno preciso con tanto di firma di documento programmatico quello che confcommercio marche nord ha chiesto oggi ai candidati della provincia di pesaro urbino alla camera e al senato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre una richiesta susseguente ad un incontro faccia faccia incontro al quale hanno partecipato antonio baldelli di fratelli d'italia giulia marchioni di noi moderati samuela melini del movimento 5 stelle daniele vimini del partito democratico federico talè dell'italia dei valori renzo savelli di unione popolare e mirco carloni della lega in collegamento da remoto rispetto al palinsesto iniziale invece non sono potuti intervenire stefano guzzi di forza italia impegnato in sopralluoghi nei comuni alluvionati assieme al capo del dipartimento della protezione civile fabrizio curcio così come elena fabbri di azione e pierpaolo loffreda di più europa chiamati a impegni lavorativi e personali queste le proposte elencate dal direttore conf commercio amerigo varotti sono diversi argomenti che fanno parte del documento che presenteremo ai candidati di questi ce ne sono alcuni fondamentali per noi uno di questi è una legge ad hoc per il commercio per il commercio di vicinato io credo che la politica abbia poco capito poco compreso che il commercio di vicinato le botteghe bisogna sostenerle se non vogliamo la morte della nostra anche offerta culturale l'italia il paese dei centri storici il paese delle piazze nelle piazze c'è vita ma c'è vita finché ci sono i negozi i negozi stanno sparendo per colpa di una politica miope che ha favorito la grande distribuzione commerciale desertificando in questo modo i centri storici e i piccoli paesi c'è necessità di una legge ad hoc con incentivi di carattere fiscale semplificazioni che consentono la sopravvivenza e la vita delle piccole attività c'è poi un tema grosso come una casa ma che è quello delle infrastrutture noi siamo e proponiamo ai candidati di sottoscrivere un documento con degli impegni uno di questi è una nuova linea ferroviaria per le marche non ci basta un bypass per pesare per fano abbiamo tutto un territorio regionale che ha necessità di un collegamento rapido e quindi c'è bisogno di una nuova linea ferroviaria in questi giorni abbiamo letto di con preoccupazione di diversità di vedute tra il ministero delle infrastrutture la commissione lavori pubblici per quanto riguarda la guinza e quindi le 78 si rischia un nuovo stop a questi lavori che ormai sono l'incompiuta di 50 anni ecco noi chiediamo invece ai politici e ai parlamentari un'accelerazione sul fronte della della e 78 perché è assolutamente necessaria per collegare le marche con con il tirre con rome con il tirreno altro tema a noi molti che stanno a noi molto a cuore quello del turismo da sempre con commercio è impegnata su questo versante e ci abbiamo almeno due temi che sottoponiamo nel documento uno è avere un ministero del turismo con portafoglio perché inutile avere un ministro se poi non ha soldi da spendere altro tema che parte poi da pesaro è il riconoscimento della ristorazione come settore turistico perché la cosa stranissima è che la ristorazione che è uno degli elementi di attrazione più importanti per nel mondo del turismo non fa parte del turismo fa parte del mondo del commercio e poi abbiamo l'assurdo che l'agriturismo che fa parte del settore agricolo quando ci sono finanziamenti in ballo diventa improvvisamente settore turistico finanziamenti che non sono consentiti invece per il mondo della ristorazione poi l'altro tema che abbiamo vissuto anche quest'estate con preoccupazione è quello del lavoro noi crediamo che vada rafforzati il ruolo della contrattazione però con una particolarità che noi sosteniamo e richiediamo da anni i contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative devono avere validità erga omnes cioè devono valere per tutti non è possibile che noi con commercio che siamo un'associazione maggiormente rappresentativa con i sindacati maggiormente rappresentativi firmiamo un contratto di lavoro onesto dignitoso e poi abbiamo invece sindacati farlocchi associazioni farlocche che fanno contratti farlocchi con salari minimi bassissimi da fame che creano quello che poi stiamo riscontrando la carenza di personale gente che non va a lavorare nelle aziende del turismo ma nel mondo del lavoro in genere apriamo la pagina culturale perché si è concluso ieri con l'assegnazione del premio a poxio meno la 26esima edizione dell'international police award festival che in dieci giorni di evento ha popolato di ospiti e appassionati il centro storico della città con pesaro che ha ospitato per la prima volta questa kermesse anche le telecamere di rossini tv erano presenti ieri in occasione dell'ultima serata e proprio sul nostro canale 80 giovedì 22 settembre alle 21 e 40 potrete vedere lo speciale realizzato del quale vi forniamo qualche anticipazione dieci giornate ricche di ospiti e proiezioni che hanno riempito il cortile di palazzo mazzolari mosca e la sala del teatro sperimentale di pesaro la 26esima edizione dell'international police award arts festival l'evento che celebra l'azione delle forze dell'ordine nel mondo del cinema televisione letteratura e musica si è concluso ieri sera riscontrando una grande partecipazione di curiosi e di appassionati del mondo dello spettacolo e della divisa un bel festival soprattutto perché riprendiamo il passo del periodo pre-covid dunque ritorniamo alle giornate piene e intense con ospiti e messaggi di un certo livello abbiamo avuto tante persone che sono venute a trovarci e questo ci inorgoglisce perché i personaggi appunto che hanno calcato il tappeto rosso del nostro festival sono di grandissimo valore non vorrei dimenticarne nessuno ma ieri c'era per esempio Gaetano Savatteri che ha parlato della sua Macari e in maniera molto amena, anche molto quasi comica ci ha praticamente intrattenuto per un'oretta e poi tante altre situazioni che si sono create durante la settimana Toni Capuozzo con una bellissima e emozionante serata sulla guerra e soprattutto sul ricordo dell'assedio di Sarajevo nella settimana abbiamo avuto più di 20 ospiti, tutti di grandissimo livello la serata conclusiva ha previsto la consegna del 26esimo premio a poxio meno riconoscimento assegnato a sportivi e protagonisti della cultura italiana e internazionale che attraverso la loro attività professionale hanno valorizzato le forze dell'ordine freggiati di questo premio Carlo Mari per la sezione arte Gaetano Savatteri e Cinzia Tani per la letteratura Marco Pontecorvo, Desireno Ferini, Alexis Sweet, Ricci Meta, Shefali Shah, Sergio Rubini e Francesco Acquaroli per la televisione Marco Simon Puccioni e Parinaz Izadiar per il cinema Gaetano Aronica per il teatro Dodi Battaglia e Mauro Maur per la musica Domenico Romano e Pietro Angelo Lobue per lo sport Vittorio Brumotti per il giornalismo Radio Esercito per il sociale Nei giorni scorsi è stata premiata anche Liliana Segre Enrico Franceschini e Sara Lucaroni invece per la letteratura Premiata anche la notatrice Daniela Poggi come protagonista del corto Ritorno al presente con regia di Max Nardari Una nuova interpretazione dell'attrice che in 40 anni di carriera fra teatro, cinema e televisione ha saputo coniugare talento e impegno sociale Il film analizza la dipendenza dai social network attraverso la storia di Palmira un'attrice degli anni 90 che si sveglia dal coma nel 2020 e scopre una nuova realtà comunicativa Non importa ciò che sei ma ciò che mostri Fai un post con il cane perché è a chiappa like Sono alcune delle frasi che la storia restituisce a frasi che ci danno la misura di un presente ormai inevitabile Dunque giù il sipario per l'International Police Award Festival Sul sipario invece per il GAD che si appresta alla sua 75esima edizione che andrà in scena dal 17 al 31 di ottobre A circa un mese dal debutto sono state svelate le otto compagnie teatrali finaliste che prenderanno parte a questa edizione 2022 del Festival Nazionale d'Arte Drammatica Sul sipario per la 75esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica che avrà luogo al Teatro Sperimentale dal 17 al 31 ottobre Sabato scorso, ad un mese dal debutto, sono stati annunciati gli otto finalisti del GAD che prenderanno parte alla Kermesse Pesarese Ad esse state selezionate sono la compagnia teatrale La Betulla di Nave con lo spettacolo Il Gioco delle Parti la compagnia dell'Anello Haps di Forlì con aspiranti assassini GAD Città di Trento che porteranno in scena Qualcuno volò sul Nido del Cuculo l'Archibugio compagnia teatrale con il Sirano di Bergerac la compagnia dell'Eclissi di Salerno con l'Acquario Don Quixote e Sancio Panza della compagnia teatrale Calandra l'Accademia dei Riuniti con lo spettacolo Tom, Dick, Harry e Dieci Piccoli Indiani della compagnia teatrale della Lanterna Quella del GAD è una lunga storia che prosegue ininterrottamente dal 1948 entrando da decenni nella tradizione e nella cultura della città di Pesaro Il festival quest'anno riconosce delle compagnie molto importanti di grande qualità con degli attori veramente importanti e che sarà il punto di diamante, un fiore all'occhiello di tutto il festival noi cerchiamo di valorizzare il più possibile questa evenienza che è il 75esimo anche con degli eventi collaterali che l'accompagneranno che li presenteremo nelle prossime settimane oggi però vogliamo essere molto soddisfatti sia della qualità delle proposte che ci sono arrivate sia delle proposte scelte per la partecipazione al festival perché queste compagnie così qualificate porteranno ancora onore al festival di Pesaro Ed ora allo sport, cominciamo dal calcio e dalla Vispesero reduce dal quarto risultato utile consecutivo su quattro partite giocate è terminata uno a uno la sfida tra il Pontedera e i Biancorossi con gli uomini di Sassarini che in Toscana dopo essere passati in vantaggio al trentesimo confedato si sono fatti recuperare nel finale da Petrovic che ha ristabilito la parità pareggio anche per l'Alma Juventus Fano che sul campo del Tolentino non è andato oltre lo 0-0 ma è una partenza di stagione comunque positiva per il Granata con 5 punti ottenuti in 3 gare e dal calcio passiamo al calcio a 5 in questo sabato in occasione del sedicesimo Memorial Nino Pizza è andato infatti in scena il triangolare che ha visto affrontarsi l'Ital Service il Futsal Pistoia e Kame Dosson quest'ultima squadra ha chiuso il torneo al primo posto mentre secondo e terzo sono arrivate rispettivamente l'Ital Service e Pistoia il Memorial prevedeva tre partite da 20 minuti ciascuna dove tutte e tre si sono concluse con i calci di rigore al termine dei match l'Ital Service e i giocatori hanno consegnato a Lorenzo Pizza e alla sua famiglia una targhetta commemorativa del torneo dove per l'occasione tra una partita e l'altra sono state presentate anche le prime squadre dell'Ital Service di calcio a 5 e della neonata Ital Service Loreto Basket così come dei rispettivi loro settori giovanili e con lo sport concludiamo questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però la nostra prima serata dedicata alla TV dei viaggi in questo lunedì andremo a scoprire le bellezze della Svizzera appuntamento alle 21.20 l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7.20 sempre in diretta con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa che in questa occasione del martedì verrà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi martedì è poi la serata di Green Tour nuova puntata di questa seconda stagione di questo viaggio itinerante nel nostro entroterra alla scoperta delle sue bellezze e delle sue tipicità enogastronomiche questa puntata di martedì 20 settembre sarà dedicata a Cogli al Metauro appuntamento alle 21.20 e poi tutte le repliche che vedete in grafica dal mercoledì alla domenica ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi